Siamo arrivati nel giorno più bello della vostra vita un giorno che sicuramente avete preparato una caratteristica degli sposi essere una carne sola questo non significa che sia Luca che Edenza cesseranno di essere le persone che fino a ieri erano non significa annullare i propri sentimenti quello che si pensa ma significa che insieme cara Enza e caro Luca sarete una forza perché due che si amano sono una forza, sono una potenza perché è la forza non fisica ma è la forza dell'amore allora noi che oggi vi guardiamo e vi ammiriamo per tutto quello che fino adesso avete fatto oggi dinnanzi all'altare del Signore questo sogno che voi avete manifestato avete preparato questo sogno diventa realtà è la forza dell'amore 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 And you are my love And you are my love And you are my love And you are my love